Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Code in direzione Roma tra il Bibio per la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In la 11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola. E code a tratti tra Pistoia e il Bibio per la 1. E in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!